La bilancia non ti soddisfa? Ti sei mai chiesto veramente perché? Spesso le motivazioni sono racchiudibili in tre cause principali. La prima, non hai veramente una dieta personalizzata. Tu pensi di seguire un regime alimentare idoneo a te, magari è stato fatto anche da un professionista della nutrizione, ma ciò non significa che avere il camice uguale alimentazione corretta per te, oppure stai seguendo semplicemente delle linee guide generali, stai attento al cibo, mangi bene, cose di questo genere e pensi e speri di ottenere dei risultati. Non funziona così. Secondo, presta attenzione al peso sulla bilancia, che è un parametro che conta il 10%, cioè quasi il nulla, perché quello che conta veramente cos'è? La massa grassa e la sua percentuale rispetto a tutto il resto, quindi massa muscolare e quant'altro. E come la sappiamo questa? Solo tramite un'analisi corporea specifica. Non si può fare con una plica e le pinzette o guardando semplicemente una persona. Quindi attenzione a non cadere in questo errore. Terzo, ma non per ultimo, non ti stai allenando o non ti stai realmente allenando. Perché muoversi in palestra non vuol dire allenare un corpo. Allenare un corpo significa avere una programmazione specifica per le tue esigenze, creare un progetto e un programma sulle tue esigenze che sia funzionale assieme al tipo di alimentazione che è stato fatto e all'analisi corporea su quello che è l'obiettivo del dimagrimento in questo caso. Ecco, se questi tre punti non sono costantemente tenuti sotto controllo, è normale che la bilancia non ti soddisfa. La buona notizia? Puoi sempre porre rimedio. E non domani, anche già da oggi. Perché se ti accorgi che questi tre punti non li stai seguendo o ce n'è qualcuno che è un po' approssimativo, sai cosa fare. Quindi agisci.